Nel mio ultimo video lungo vi ho raccontato tre storie di persone scomparse in modo veramente misterioso e nei giorni seguenti alla pubblicazione di quel video ho cercato altre storie simili mi sono informato, ho letto molto e quindi oggi ho deciso di raccontarvi altre tre storie altri tre casi delle migliaia che compongono il mistero sconcertante del fenomeno Missing 411 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video vi ricordo come sempre che se vi piacciono le storie incredibili e misteriose lasciate un bel like e un commento a questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun video ma ora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito mamma mia che ansia terribile nel febbraio del 2018 un vigile del fuoco canadese di nome Danny Filippidis era in gita sugli sci con i suoi colleghi e amici a New York era una cosa che facevano ogni anno e lo stesso Danny era un amante degli sci era un'attività che praticava abbastanza spesso il 7 febbraio verso le ore 14 circa Danny e i suoi amici stavano sciando ormai da diverso tempo proprio per questo si stavano preparando per rientrare nella baita e per pranzare ma Danny disse ai suoi amici io voglio continuare un po' a sciare quindi faccio qualche altra discesa e poi ci vediamo nella baita per pranzo inizialmente i suoi amici pensavano che probabilmente si era trattenuto sulle piste ma poi verso le 16 circa hanno iniziato a pensare che Danny poteva aver avuto qualche problema quindi hanno iniziato a provare a contattarlo senza ricevere nessuna risposta né ai messaggi né alle chiamate ovviamente a quel punto anche i suoi amici si sono parecchio preoccupati e hanno iniziato a cercarlo ma di lui non c'era nessuna traccia per questo hanno riferito la sua scomparsa ai dipendenti del lodge una squadra di 130 persone ha perlustrato la montagna con tutti i mezzi a loro disposizione le ricerche sono andate avanti per ore e ore senza successo Danny infatti non si trovava da nessuna parte 6 giorni dopo la moglie di Danny ricevette una telefonata non riconobbe subito il numero però rispose comunque e la voce dell'interlocutore nonostante suonasse molto lontana e disturbata lei non aveva dubbi era la voce di Danny era confuso e molto intontito quella chiamata infatti è durata poco perché Danny ha subito riattaccato la moglie però lo ha richiamato su quello stesso numero e lo ha supplicato di chiamare l'autorità per chiedere aiuto così ha fatto al telefono con l'autorità era super confuso al punto che non aveva idea neanche di dove si trovasse e si limitava a descrivere ciò che lo circondava fortunatamente questo descrivere le zone circostanti ha aiutato i paramedici che poi sono riusciti a localizzarlo e a trovarlo quando sono arrivati Danny indossava ancora l'attrezzatura e l'abbigliamento da sci e ovviamente aveva bisogno di assistenza medica aveva in mano un iphone nuovo di zecca e qualcuno gli aveva tagliato i capelli in qualche modo era finito a sacramento in California al deposito di autonoleggio del terminal dell'aeroporto era a circa 5500 km da dove era scomparso non riusciva a ricordare come fosse arrivato lì e non aveva idea di che giorno fosse quando ha capito finalmente dove si trovava e da quanto tempo le persone lo stessero effettivamente cercando è rimasto molto sorpreso la teoria principale è che si sia trasportato lì nel retro di un camion di grandi dimensioni perché a quanto pare lui effettivamente riusciva a ricordare soltanto di essere salito su un camion di grandi dimensioni non ricordava assolutamente nient'altro soltanto questo Danny poi ha riferito di ricordare che successivamente è andato a comprare un nuovo telefono con lo scopo di chiamare sua moglie ma anche qui rimane strano sia il fatto che aveva con sé soldi a sufficienza per acquistare un iphone visto che comunque quando è scomparso si trovava sulle piste da sci e non aveva proprio tantissime cose con sé e resta anche molto strano il fatto che si sia tagliato i capelli tuttavia è stato molto collaborativo con le autorità per fare in modo che comunque potessero aiutarlo a ricordare cosa fosse successo o comunque a scoprirlo hanno controllato anche i movimenti del suo conto in banca ma risultava tutto nella norma il che invece di dare delle risposte lasciava sempre più domande anche a chi stava indagando sul caso ci sono diverse teorie che provano a spiegare la sua scomparsa e ricomparsa le principali diciamo che sono due la prima suggerisce che probabilmente è stato rapito da qualcuno ma io personalmente ho dei dubbi a che scopo per esempio lo avrebbero dovuto rapire non aveva nulla di valore con sé e comunque tutto ciò che aveva al momento della sua scomparsa lo aveva anche quando è ricomparso nessuno poi ha chiesto un riscatto insomma io non ne comprendo veramente il motivo la seconda teoria è che avrebbe potuto aver battuto la testa questo gli avrebbe causato un'amnesia e poi avrebbe continuato a fare quello che ha fatto senza motivo anche se fosse andata realmente così resta comunque strano come abbia fatto ad arrivare in California senza i documenti il passaporto infatti e tutti gli altri documenti erano rimasti alloggio al momento della sua scomparsa la cosa positiva comunque in tutta questa storia è che Danny è riuscito a tornare a casa sta bene, è tornato al suo lavoro ed è stato in grado di crescere i suoi figli e questa credetemi è una cosa veramente stupenda perché vedete non è una cosa che succede molto spesso che una persona comunque scompare e poi ricompare dopo diversi giorni fammi sapere nei commenti di questo video che idea ti sei fatto su questo caso nel 2014 un medico di nome James McRogan stava facendo un'escursione con lo splitboard con dei suoi amici in Colorado se non sai cosa sia lo splitboard te lo spiego subito in realtà non lo sapevo neanche io prima di essermi informato per questo video è uno sport che assomiglia molto allo sci di fondo con dei veri e propri sci che poi si collegano e diventano una tavola tipo quella da snowboard un misto in pratica la mattina del 14 marzo 2014 verso le 8.30 del mattino James e questi suoi tre amici sono partiti per un'escursione di circa 14 km fino all'Aisman Hut calcolate che all'epoca c'era parecchia neve nell'aria stiamo parlando anche di parecchi metri di profondità in alcuni punti ma anche se quella era un'escursione impegnativa James e i suoi compagni erano comunque degli esperti con la vita all'aria aperta e partivano anche molto ben preparati lo stesso James infatti portava con sé un cellulare forniture mediche di base un sacco a pelo un sistema GPS satellitare dei vestiti caldi e cibo e acqua in abbondanza nel bel mezzo dell'escursione il gruppo si è fermato per riposare a quel punto James disse che avrebbe continuato un pezzo di sentiero in solitaria e che poi li avrebbe aspettati alla prossima fermata gli amici poi l'hanno perso di vista e non l'hanno neanche più trovato a nessuna delle fermate lungo il sentiero da quel momento infatti James non è stato più visto è stata avviata un'operazione di salvataggio e quando la squadra di ricerca è andata a cercarlo non hanno trovato tracce nella neve che si discostassero dal sentiero quindi non avevano idea di dove potesse essere andato nei tre giorni successivi squadre di ricercatori a piedi motoslitte e tre elicotteri hanno perquisito l'aria ma martedì 18 marzo il maltempo ha costretto la sospensione delle ricerche soltanto diversi giorni dopo il suo corpo è stato scoperto da due escursionisti sul fondo di una cascata ghiacciata si trovava a circa 7 km di distanza in linea d'aria dal punto in cui era scomparso questi 7 km in linea d'aria in realtà corrispondevano a un'escursione di circa 22 km poiché avrebbe dovuto arrampicarsi sulle montagne per arrivarci quando è stato trovato indossava ancora il completo da sci e il casco ma non aveva né gli scarponi né i guanti una cosa veramente molto strana e la squadra di ricerca e soccorso in seguito ha trovato anche la sua tavola da snowboard ma i suoi scarponi non sono mai stati trovati ricordiamoci che aveva con sé un cellulare operativo e un sistema a gps il che rende molto difficile credere al fatto che si sia perso anche perché proprio il suo cellulare e il gps erano ancora funzionanti nel momento in cui è stato ritrovato e i ricercatori che hanno testato l'aria hanno visto che effettivamente c'era il segnale eppure lui non ha mai chiamato nessuno per chiedere aiuto cosa sarà successo al dottor james? la teoria più razionale è che abbia camminato per circa 22 km attraversando la neve profonda e questo potrebbe essere stato il motivo per il quale ha perso gli scarponi oppure un'altra possibilità è che magari ha ceduto all'ipotermia e quindi ha iniziato a spogliarsi ma perché a quel punto non ha usato il cellulare e il localizzatore gps? e soprattutto perché si è separato dai suoi amici e ha deciso di continuare da solo? anche questo resta un caso veramente misterioso e voi come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate nel 1999 un bambino di 3 anni di nome Jared Adatero viveva con sua sorella e suo padre nel resort in cui il padre di Jared lavorava all'interno di un parco nazionale in colorado ad ottobre del 1999 un gruppo di una chiesa cristiana stava soggiornando presso il resort stavano aiutando il padre di Jared a prepararsi per l'inverno in cambio ovviamente di un posto dove dormire il 2 ottobre Jared, sua sorella Jocelyn di 6 anni e altri 11 adulti stavano facendo un'escursione lungo il Big South Trail vicino a Rocky Mountain National Park in Colorado durante l'escursione Jared sorpassò tutti corsi avanti lungo il sentiero e si fermò a parlare con un gruppo di pescatori solitamente i bambini come sappiamo sono molto curiosi quindi Jared si è avvicinato, ha iniziato a fare qualche domanda e così hanno scambiato due chiacchiere dopodiché i pescatori sono tornati alla loro attività hanno visto il gruppo che comunque non era molto lontano da loro quindi erano convinti che il bambino li avrebbe raggiunti subito in realtà i pescatori sono state le ultime persone che hanno visto Jared vivo circa 45 minuti dopo infatti il gruppo di escursionisti si rende effettivamente conto che Jared è scomparso e così iniziano a cercarlo lo cercano per circa un'ora mentre alcuni di loro sono tornati al resort per avvisare il padre di Jared che si precipita ovviamente subito sul posto e inizia a cercarlo anche lui nei giorni successivi una grande operazione di ricerca e salvataggio non è riuscito a trovare alcuna traccia di Jared le ricerche vanno avanti fino all'8 ottobre quando poi vengono sospese per mancanza di indizi i ricercatori hanno riferito di aver lavorato per 8 giorni pieni 24 ore al giorno e c'era sempre qualcuno sul campo a far rumore quindi se Jared fosse stato lì fuori li avrebbe sicuramente sentiti soltanto nel 2003 4 anni dopo la scomparsa del bambino due escursionisti hanno scalato una parete rocciosa molto ripida e quando si sono trovati a circa 160 metri sopra il sentiero hanno trovato il dente di un bambino, un pezzo di teschio e degli abiti questi due ragazzi conoscevano già la storia di Jared hanno avvertito quindi l'autorità e hanno mandato loro delle foto di quello che hanno trovato quando quelle foto sono arrivate al padre di Jared lui non aveva dubbi i vestiti erano quelli di suo figlio hanno trovato anche le sue scarpe che sembravano nuove in qualche modo si è tutto perfettamente conservato per quei 4 anni la domanda che subito tutti si sono posti è ma c'è un modo in cui Jared avrebbe potuto arrampicarsi su quella montagna da solo? per i due escursionisti che hanno trovato i resti assolutamente no in quanto è stato molto difficile anche per loro arrivarci il terreno poi era molto sconnesso tuttavia quello era un luogo difficile da raggiungere anche per un eventuale rapitore che doveva trasportare il corpo di Jared le forze dell'ordine su questo caso pensano che ci possa essere stato un incontro con un animale proprio all'inizio della sua sparizione la scomparsa di Jared non ha prodotto alcuna conclusione ufficiale da parte delle forze dell'ordine e tutt'oggi resta un mistero e la famiglia Tadero è ancora perseguitata dalle mille domande senza risposta su questo caso purtroppo potremmo non conoscere mai la vera storia dietro questo o nessuno degli altri casi che riguardano il misterioso fenomeno Missing 411 bene amici anche le storie di oggi finiscono qui spero che il video vi sia piaciuto se così è stato vi ricordo di lasciare un bel like a questo video iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti grazie mille per il vostro supporto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao